Che è tutto un sorriso, una delizia, una nuova, una bellezza da incantare, lo vedi? Ragazzi, oggi siamo venuti a Nemi, questo è il lago di Nemi, il paese Nemi, facciamo passaggiata, ciao! La acqua fresca, oh, prego, prego! E' un schismonio, prego, 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 prego! la famosa fragola Asya, che stai mangiando? Grazie, è buono? Sì, qui miro che stai mangiando, bravo! che cosa? ma noi mangiamo intanto fragola, buonissimo andiamo vediamo che c'è abbiamo trovato un altro fontana di meduso sentiamo quanto fresca sentiamo sentiamo è bellissimo andiamo andiamo scopriamo andiamo non è ghiaccia ma ferma ma ferma mamma andiamo 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 E quando giriamo, e qui vieni, qui c'è il lago, wow, attenzione, come si chiama questo lago? Lago piccolo, lago piccolo, no, lago di Nemi, Nemi. Lago piccolo, abbastanza grande secondo me, andiamo di là, vediamo che c'è, qui tutta la strada a scendere, questa parte invece si vede, ecco qua. Ciao. come fai? come fai? come fai?